L'accorpamento Teramo-L'Aquila non convince Pineto, Silvi e Atri. I sindaci dei tre comuni guardano a Pescara e convocano un incontro per martedì prossimo al comune di Atri per discutere del passaggio alla nuova provincia. Ma non solo, obiettivo le tre sindaci in Monticelli, Astorfi e Valle Scura è anche la creazione di un unico ente per i tre comuni. Un progetto impegnativo che si fonda su una benavviata collaborazione tra due dei tre comuni, Pineto e Silvi, che già operano in forma associata sia nel campo dei servizi sociali, sia nel servizio di vigilanza attraverso l'unione del Corpo di Pulizia Municipale e che presto gestiranno in maniera congiunta anche l'ufficio del demanio marittimo. Anche Atri si appresta ad entrare nella gestione associata del servizio di vigilanza, spiega il sindaco Astorfi. L'iter burocratico è ormai a buon punto e contiamo di renderlo operativo in tempi brevi. Il percorso politico verso il passaggio dei tre comuni alla provincia pescarese, dell'accorpamento dei tre municipi è solo all'inizio, ma è subito evidente che un territorio che complessivamente conta tra i 43.000 e i 45.000 abitanti acquista un peso specifico anche sotto il profilo politico territoriale.